Una visita speciale, un dono per chi nella vita ha come unica missione quella di fare del bene. L'ospedale Meyer si colora di viola. Una delegazione della Fiorentina si è presentata infatti all'open day dell'ospedale pediatrico vera eccellenza a livello mondiale in occasione di un Meyer per amico 2019, Fondazione Ollus, che ha festeggiato il suo sesto anno di vita. Un'occasione di festa in cui il Meyer ha aperto le porte alla città e soprattutto ai più piccoli con giochi, eventi, spettacoli ed attività di laboratorio. Presenti e pronti a rispondere alle domande dei bambini il vicepresidente Viola Ginosalica, il tecnico Stefano Pioli, il capitano Erman Pezzella, che ha parlato dell'importanza della gara di Coppa Italia e ha promesso di impegnarsi per entrare il prima possibile. E Federico Chiesa, che ha la domanda di uno dei tanti bambini presenti, ma vai alla Juve, ha risposto così. A Chiesa ti facciamo la domanda? A Chiesa. Dov'è la Juve? No, è un appello. È un appello. Allora, aspetta. Questo è un appello che ovviamente condividiamo tutti. Trasformiamolo in domanda. Vai alla Juve? Sentiamola no. E io mi spazzo di più. Vai. Adesso forza miola. Aè.